L'ex mercato ortofrutticolo diventa un orto creativo. Dopo due gare infruttuose per il polo digitale, infatti adesso il Comune ha deciso di emanare un avviso pubblico tramite il quale acquisire proposte progettuali per la valorizzazione e la gestione di quegli immobili. Ci vogliamo portare avanti con i lavori perché individuare il soggetto ci consentirà in fase di realizzazione, di ristrutturazione degli ambienti, di farli congeniali, di renderli congeniali all'attività che verranno svolte dentro. Quindi in questa prima fase andremo a individuare quelle che sono le idee generali delle aziende, delle aggregazioni di soggetti che vorranno in qualche modo intervenire all'interno dell'area. Ci presenteranno un progetto dal punto di vista economico, dell'investimento nell'area, dal punto di vista del piano economico finanziario, delle ricadute sul territorio. Quello che verrà valutato come miglior progetto verrà poi in una fase successiva messo a bando per andare ad individuare effettivamente quello che sarà il soggetto concessionario. Quali saranno i requisiti? I requisiti di fatto abbiamo fatto un bando abbastanza largo, di maglia abbastanza larga, quindi non abbiamo vincolato come era stato fatto nel passato a, come per esempio, polo digitale piuttosto che a settori specifici. Quindi non ci sono requisiti, non ci sono indirizzi specifici da parte dell'amministrazione, potranno intervenire tutti i soggetti che lo riterranno opportuno e poi ci sarà una scrematura. Gli interessati dovranno far pervenire progetti entro le 12 di martedì 18 aprile. Ogni proposta dovrà contenere una soluzione progettuale, un piano di fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria ed infine gli elementi di ricaduta sul territorio.